tanti saluti tutti 23 luglio 2021 sono qua a piazza piola milano vedete quello la filobus 91 faccio in convalazione questo è esattamente il punto dove io aprile 2016 ho fatto il gesto dell'ombrello ho fatto il gesto dell'ombrello vedete lì c'è telecamera lì c'è telecamera a qualche parte c'è una telecola la c'è telecamera lì c'è telecamera io ho fatto il gesto dell'ombrello non so come mai comunque dopo una settimana due settimane io e tu lì terzo tutte e due senza mezzo dente un bicchiere di latte col miele un cucchiaio di miele a me un cucchiaio di miele a tu lì terzo tutte e due senza mezzo dente tanti saluti tutti i patricutinati nel vero nome di vladimir puttini capo della politica dei segreti